Il Tuffpad FZQ2 è un device detachable con schermo da 12,5 pollici full hd e fa parte della famiglia dei semi rugged è dotato di processore intel m5 v pro di stessa generazione e windows 10 pro il display è un touchscreen capacitivo multi touch a 10 dita il prodotto è dotato di 4 giga di ram e una ssd da 128 giga il Tuffpad FZQ2 è dotato di una porta seriale nativa porta hdmi connettore lan una porta usb e in opzione lte 4g il Tuffpad FZQ2 è resistente a cadute fino a 76 centimetri ed ha un'autonomia della batteria fino a 7 ore la tastiera retroilluminata e resistente agli schizzi è dotato di uno stand a tavolo e di una comoda maniglia per il trasporto grazie al design semi rugged e al display ampio combinati con funzionalità wireless ottimizzate il Tuffpad FZQ2 è adatto a diversi settori come quello retail, settore assicurativo, utilities e delle telecomunicazioni la disponibilità a partire da fine maggio 2017